bella ragazzi ho fatto un ritardo incredibile e ragazzi va bene carico cioè allora facciamo due partite semplicissime perché prima stavo creando un video poi la parte stavo risolvendo perché c'era un cosa verifica l'account da questi dati che non gli posso dare perché ci hanno rubato l'account è normale quindi ho ricominciato il video e la camera si è rotta bene devo giocare così con una mano ma vedete che riesco a vincere con una mano allora ragazzi facciamo un record che riesco a vincere con una mano va bene no aspetta che ragazzi è molto difficile questo record è molto difficile aia no rigiuro se ce la fa cosa cosa è successo aia e non ce l'ha fatta ragazzi prima partita andata ok così va bene va bene non tantissimo è così adesso facciamo ultima partita e speriamo di vincere ragazzi facciamo 6 minuti ragazzi perché non ho tempo che ho fatto ritardo assurdo 16 a 43 addirittura so abbiamo ragazzi quindi sacco di ritardo io nei commenti c'è la descrizione ha detto 15 e 50 ma di due le so le 16 e 43 addirittura perché non salti mi sono abituato con il record di una mano godo no sopra quel dottore egmanoneo si chiama quello neo è quello di istambul guys allora ragazzi 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 ora godo ma godo ma godo ma godo godo ragazzi 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 rag c'è ma veramente ma sul serio guarda come un riccio brava da qui e lo dico è brava ragazzi ma che mi hanno mandato l'altro telefono penso no ragazzi non posso vedere proprio mi aveva mandato qualcosa almeno vediamo no niente prima stavo ascoltando roca l'obleto vabbè pio to pash ti vado un push in culo perché io ti sto pushando mentre gioco a fortnite non è che tipo io ti voglio pushare perché ti voglio cagare non lascia il re manu 104 manu manu 104 manu sapete che mi amui a mi a mi a mi a ma ragazzi oggi non so parlare ragazzi e mi dispiace mamma mia che culo è proprio un culo grinda adesso ragazzi c'è una tecnica di andare sempre sul bordo c'è pure mia nonna stavo morendo no non so perché era in game e dai andiamo siamo a 4 minuti e 40 e qua deve arrivare a 7 dai ragazzi io voglio io block dash voglio io block dash ed iniziano le parolacce ragazzi mi muovere se veloce dai e dai e oh godò 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 sono 16 ma veloce dai e mi stava baggando stambo gas ma quanti pionio c'è 47 45 non capisco pochi pingo ragazzi che significa no 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 cosa non dare il conto giusto oh godò 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 e qua qua iniziano i trick no 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 mannaggia la miseria ragazzi devo guardare sullo schermo perché sennò non mi concentro che rima pure che rima perché sullo schermo perché sennò non mi concentro guarda il pro guarda il pro che si qualifica su un di no dieci ero no all'undicesimo ma che è stato l'astronauta il primo non è l'astronauta il primo degli ultimi vediamo dove sono io eccolo quello là che faccio io mi sveglio sempre le sette del mattino così presto già andiamo ola super slide porca miseria io qua ho il trick tantissimi ne è poco tanti e vabbè già ho perso vabbè già lo sappiamo che abbiamo già perso bene guarda ho già ho già vinto ma è impossibile vincere di già è normale guarda ho vinto ho vinto we are champions ragazzi ragazzi ma come ma come è possibile è la prima volta che passo con la cosa vi faccio vedere solo un trucco tipo questo che ce la fa il campione un altro no non ce la fa ho fatto solo vedere i trucchi no i trucchi come si mettono in faccia ciao l'ultimo se ne posso caricare tutti questi video di merda io carico ogni video alle 15 e 50 ma potrei anche un po' ritardare ragazzi potrei anche un po' ritardare ragazzi che se ne frega e' normale che un po' ritardare ragazzi che te e la counted per una parodina della dolce tipa o vita su right Perché io sto perdendo, perché sto gioco non mi fa trovare una skin leggendaria, perché questo gioco è la coppia tarroccata di Fall Guys, perché io drogo, perché faccio LOL e ci vuole già il cool, perché ci vuole già una skin, ci vuole già una skin speciale. E invece non la troverò mai, questa qua è la mia parodia, questa qua è la parodia di Fall Guys, la farò sul mio canale, vi giuro. Ah, allora ve la butto lì ragazzi, siamo a 101 iscritti, ve la butto lì, se arriviamo a 100, non lo so, 100, 151 iscritti. Faccio la parodia ragazzi, l'ho detto, è una promessa, è una promessa ragazzi, questa è una promessa, una promessa ragazzi. Ma dico già quella, dico già, un versetto di quella di Fortnite, e dentro l'occellino, dentro questa nuova chest, o la cecchinata, si è parte la smadonnata. E poi non lo so, 13, 14, 15, 16, l'ultimo è 16. E parte l'occellino dentro questa nuova chest, o la smadonnata, si era già gliciata. Mi pento dentro all'arbero per trovare la chest, eccolo trovata, si era già gliciata. E parte già la floss, beccati la smadonnata, perchè io mi svengo, perchè prova a scrivere svengo, perchè io ti chilo, perchè lui mi sta chillando. Ragazzi siamo a 10 minuti, oh. Ragazzi, allora facciamo l'ultimo trick. Il trick è di, l'ho visto, oh mio Dio, il trick è quella di andare sull'erba, così tipo. Però dobbiamo stare molto attenti, è un bug di Stambol. No, non scivolare, non scivolare, non scivolare. Oh, oh, ragazzi, sto solo provando questo qua. Oh mio Dio, che god. Che god, che god. Proviamo. No, mito smentito. Quindi, ragazzi, siamo all'inizio. Bella! Parte la smadonnata, e dentro lo cildino, dentro questa nuova cesta, parte la smadonnata, si era già gliciata. Si vuole già la floss, venditi coglione, uomiti coglione. Aspetta, aspetta, faccio una canzone. Mi ricaricati? L'estate senza amare, dimmi tu che estate è... Oh, la... No. Come si chiamano? Guardati un cartone. Muoviti, coglione. Vabbè, il coglione è bellissimo. No, perché ho fatto una partita? Vabbè, ragazzi, mi metto all'angolino a piangere, perché non devo fare la partita. Ragazzi, spero che vi sia baciuto, e ciao!